Daniele, questa è la tua situazione di insufficienza, per domani mi porti un video, un testo, un'esperienza che ha come traccia l'omofobia. Ci siamo capiti? Va bene. Ma come lo faccio sto compito? Cosa vuoi? Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Daniele, mi hai portato il compito. No, sinceramente non ho avuto spunti. Quello che ho voluto rappresentare è proprio un parallelismo con quello che accade nel mondo. Siamo tutti circondati da atti omofobi come il protagonista, ma solamente pochi se ne rendono effettivamente conto e non fanno nulla per cambiare le cose. Grazie a tutti.